Sette frati, 11 aprile del 2011, siamo venuti qui al cimitero perché ci è stato detto che è stato commesso uno scempio orripilante. E infatti l'impatto è devastante. Due cipressi monumentali, secolari, sono stati abbattuti con una motosega e è fatto lo scempio, ecco. Guardate la bellezza di questo tronco. E' stato abbattuto. Questi sono i resti. Quello di sinistra e ora i resti del cipresso entrando a destra. E' veramente uno scempio, commesso nel silenzio più assoluto di tutti e il cimitero è stato ulteriormente devastato. Perché questo scempio? Si dice che si sono stati abbattuti per il semplice fatto che sporcavano il seccume dei cipressi, intasava le grondaie del tetto dell'antistante il cimitero. Ma è assurdo. E' come se un bambino che piange per precauzione gli tagliassero la gola. Ma non si può permettere una devastazione di questo tipo, di questa portata. hanno travolto anche e lapidi. Tutto. I nuovi barbari non hanno avuto pietà nemmeno dei morti. non hanno avuto pietà nemmeno dei morti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.